E' detto bene, l'Italia batte la Francia sulla bontà dei formaggi, infatti Taste Atlas, il portale online che segnala le migliori esperienze enogastronomiche a livello mondiale nella sua classifica dei 100 migliori formaggi al mondo, 2023-2024, signori e signori, in corona il parmigiano reggiano come il più buono di tutti. Allora colleghiamoci con il nostro amico Carlo Gambi, giornalista della verità, esperto, eccolo vediamo, enogastronomico, buongiorno. Ciao Massimiliano, buongiorno. Carlo, immagino la tua felicità, la nostra felicità e ti chiedo quali sono gli elementi, i segreti di questo successo tutto italiano? Beh, innanzitutto il fatto che i nostri formaggi sono così diversi l'uno dagli altri e quindi i consumatori di Atlas, che come sai sono più di 100.000, questo sito è importantissimo perché fa un sondaggio veramente molto ad ampio spettro, hanno conquistato già i mercati del mondo e questo successo consolida che cosa? Il gradimento che c'è complessivamente per il nostro modo di operare la massima qualità. Ti faccio soltanto osservare che ieri è stato pubblicato il rapporto sulla DOP Economy, vale per noi 20 miliardi, dentro la DOP Economy i formaggi vengono 6 miliardi, quindi è una storia seria e per questo probabilmente stiamo conquistando le vette del mondo, abbiamo cominciato a saperli vendere, ecco. Ecco, ma la cosa tra l'altro che leggevo Carlo, che il secondo e il terzo posto sono italiani, con la mozzarella di bufala e lo stracchino e poi nei 10, nei primi 10, 6 comunque sono italiani, cioè non c'è partita per nessuno praticamente. No, no, e la cosa da sottolineare, sai qual è Massimiliano? È che parmigiano, mozzarella di bufala e stracchino sono tre tecniche casearie completamente diverse l'una dall'altra perché, come sai, il parmigiano è erede dei formaggi grana inventati dai monaci cistercensi nell'Abbazia di Chiaravalle vicino Milano ed è un formaggio a pasta semicotta. La mozzarella di bufala è una pasta filata che è una prerogativa solo italiana, si fa soltanto in Italia la pasta filata che significa poi provoloni, che significa poi cacicavalli, eccetera, che sono peraltro nella classifica e invece lo stracchino è un formaggio freschissimo, addirittura fatto una volta con latte stanco, cioè con l'ultima mungitura delle vacche quando proprio erano, come dire, tornate dal pascolo. Il che significa che non soltanto la qualità dei latti, non soltanto la qualità del paesaggio italiano vengono venduti con questi formaggi, ma anche l'abilità casearia dei nostri produttori. Ecco, Carlo, una cosa che ho imparato probabilmente negli anni, soprattutto quando facevo Linea Verde, è che noi siamo bravissimi come produttori e i francesi però ci battevano quando dovevano andare fuori esportando perché poi erano in pochi a parlare e rappresentavano tanti gruppi. Noi invece siamo sempre in tantissimi a andar fuori. Allora ti chiedo, a livello commerciale, loro come sono messi? Loro sono messi molto bene, tant'è che questo successo italiano in realtà diventa un successo commerciale per loro. Basta che tu pensi che il primo esportatore di parmigiano reggiano è una società francese, la Lactalis, che vende all'incirca 105.000 forme di parmigiano reggiano nel mondo ogni anno. Questo perché? Perché ovviamente essendo entrato nel... avendo comprato il gruppo Parmalat è oggi il principale protagonista del mercato lattiero caseario. Ma questo vale anche per il taleggio, vale anche per lo stacchino, che sono altri due formaggi, come abbiamo detto, nella classifica. Dobbiamo migliorare lì allora. Grazie Carlo Gambi. Grazie a te Massimiliano, arrivederci e auguri se non ci risentiamo. Auguri, grazie. E allora adesso TG Parlamento, poi TG Unolisse e vi aspettiamo qui nello studio di Uno Mattina, tra poco.